La cosa che fa più stupire è che questa narrazione anti-establishment sia stata assunta anche da alcune parti della sinistra in Europa, soprattutto in Italia, ma questo fa parte della pornografia politica a cui purtroppo siamo soliti assistere a volte. Bene, emerge un quadro già abbastanza interessante, Trump come logica conseguenza di una logica conservativa del potere negli Stati Uniti, di un sistema politico bloccato e anche come espressione di una volontà di tornare su uno schema sociale che è quello che ha contraddistinto da sempre la società americana. Però dentro questa logica sociale e politica così bloccata emergono delle contraddizioni, delle contraddizioni sia nel basso della società, abbiamo visto comunque subito dopo l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, come abbiano ripreso i movimenti soprattutto sulle questioni di genere, soprattutto sulle questioni legate alle migrazioni o comunque alla linea del colore. Però ci sono delle contraddizioni anche che si innescano all'interno del blocco di potere, non è un caso il fatto che le corti federali abbiano bocciato, per ragioni di carattere politiche, sia i provvedimenti che ha fatto Trump sulle migrazioni, quello ad esempio relativo all'oleodotto in Nord Dakota. Che cosa riusciamo a dedurre da queste contraddizioni che iniziano a innescarsi all'interno del sistema politico e di potere statunitense proprio con le elezioni di Donald Trump? Dunque, l'America è un paese strano. Ogni volta che ragioniamo di America dobbiamo cercare di abbandonare il nostro punto di vista europeo, perché altrimenti rischiamo veramente di non capire alcuni fenomeni. Per esempio è un paese che da un certo punto di vista del rituale è estremamente tradizionalista. Pensate che, insomma, questi votano da oltre 200 anni sempre nello stesso periodo, che è quello di novembre, perché alla fine del Settecento è l'unico periodo libero dalle esigenze del raccolto. Quindi dopo 200 anni, quando queste esigenze non ci sono più, questo fatto continua. Perché ho detto questo? Perché anche il sistema politico americano, la struttura, il congegno quasi perfetto istituzionale e costituzionale americano è bloccato sostanzialmente. Voi sapete che c'è una costituzione antichissima, insomma. Noi in Europa sentiamo la necessità ogni 40, 50, 60 anni di cambiarla. Loro fanno degli emendamenti. Che cosa significa? Che la struttura originaria rimane e ogni tanto fanno delle aggiunte. Così anche il sistema del bilanciamento, controbilanciamento dei poteri in America è lo stesso e sembra reggere abbastanza bene. Evidentemente però l'avvento di Trump qualche problema l'ha creato. Ogni tanto la Suprema Corte interviene per cercare di fermare questo nuovo presidente così devastante nella sua volontà personalistica. Però evidentemente nonostante questa struttura, questo voglio dire, questa struttura forte, nella società americana soprattutto negli ultimi 40 anni, insomma, negli ultimi 50 anni, qualche cosa di forte sta avvenendo. La contraddizione di cui tu parlavi è proprio questa, cioè l'idea di un sistema mentale, culturale e istituzionale rigido, forte, basato sulla tradizione e allo stesso tempo delle profonde trasformazioni che si stanno verificando ormai da decenni. Prima facevamo cenno alla questione del Messico, Trump ce l'ha a morte con i messicani, prima di tutto perché, diciamo, gli funzionano benissimo come nemici. Insomma, voi pensate che l'America ha una geopolitica, diciamo, e una collocazione geografica direi particolarissima, nel senso che teoricamente è la nazione che avrebbe meno bisogno di muri, perché da una parte c'è il Canada, dall'altra parte ci sono due oceani, no? Quindi è naturalmente chiusa nel suo splendido isolamento. L'unico problema è il Messico. Normalmente i muri però si alzano verso le nazioni più potenti e più minacciose, non verso quelle più povere e diseredate. Anche lì c'è una questione di immaginario fortissima, no? Però è dal Messico, Trump ce l'ha a morte con il Messico, perché dal Messico e dall'America Latina arrivano i latini, sostanzialmente, che sono alcuni dei suoi nemici preferiti. I latini e la forte immigrazione cattolica, insomma, sta cambiando profondamente il tessuto mentale e sociale americano, proprio perché questa forte immigrazione cattolica scardina quel sistema mentale e culturale di cui parlavamo prima, che è il sistema dicotomico, diciamo, il sistema puritano, no? Ecco, anche questa è una delle contraddizioni che vale la pena di sottolineare. Cioè un paese, e qui ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso sulla politica di Obama, che invece avendo preso coscienza di questa struttura ed essendo poi il risultato di questa profonda ondata di trasformazione, ha cercato di, in qualche maniera, di intaccare questa struttura originaria. Obama, se voi ci pensate da un punto di vista simbolico, è la perfetta rappresentazione della contaminazione. Obama non è nero, Obama è mulatto, Obama è l'intersezione tra il bianco e il nero, è qualche cosa che nella mentalità americana è già in sé devastante. Quindi, dal punto di vista simbolico, Obama è devastante. E chiaramente nella sua politica, è inutile ricordare i suoi tentativi di riforma, ha cercato proprio di adeguare, in qualche maniera, queste trasformazioni ad un sistema rigido. Allora, è vero che l'elezione di Trump ci ha messo in grave difficoltà, perché noi avevamo concluso il nostro primo libro in fondo con un orizzonte positivo, cioè l'idea che Obama avesse aperto una strada. Il fatto che Trump abbia vinto ci ha fatto riflettere e dedurre un fatto, e cioè che evidentemente i processi di trasformazione culturale e mentale nella storia sono spesso lentissimi. È probabile che un personaggio come Obama sia arrivato un po' troppo presto nella cultura e nel terreno americano. E anche in questo si spiega l'avvento di Trump. Però questa contraddizione di cui tu parlavi, questo scontro fortissimo tra sistema e trasformazioni, è in atto. E non sappiamo a cosa ci porterà, naturalmente. Vediamola proprio dal punto di vista tra struttura politica e cultura americana che propone Trump, perché qui forse c'è l'altra contraddizione fondamentale. Allora, America first, però dal punto di vista legislativo i fedi e i poteri del Presidente non sono una politica interna, ma sono una politica estera. Questa è una delle contraddizioni fondamentali tra il Trump in campagna elettorale e quello che effettivamente può fare. A livello interno, dove c'è un sistema di pesi, contrappesi, con corte suprema, ogni Stato ha la sua corte federale, c'è il Parlamento, c'è il Senato, c'è la Camera dei Deputati. Quindi lui vorrebbe fare il Presidente che si occupa solo della politica interna, ma in realtà i veri poteri, il Presidente americano, ce l'ha in politica estera. E infatti la denuncia del Trattato sul Clima, quella è stata facile romperla, perché qui lì non ha alcun problema, lì è perfettamente nei suoi poteri. Allora, questa sarà una contraddizione, probabilmente l'unica vera contraddizione devastante, che c'è la cultura aporitana che vuole chiudersi e gli effettivi poteri di un Presidente che invece sono essenzialmente proiettati verso la politica estera e l'esterno. Dov'è che c'è una sorta di possibilità che Trump ha di far coincidere le due cose? In uno dei messaggi che più volte ha ripetuto durante la campagna elettorale, e che trovate una volta su tre nelle pagine del libro di Fabio, che è quello riportiamo a casa l'America. Cioè, quell'America che si è esternalizzata, per esempio, questo l'ha detto in campagna elettorale, poi dobbiamo capire se effettivamente riesce a farlo. Riportiamo a casa le truppe, riportiamo a casa l'esercito, riportiamo a casa i soldi, cioè tutti gli investimenti americani vanno riportati a casa. Ora, Fabio Dazia, l'esperto di Buritanese, vi direbbe che il tema del ritorno a casa è tipico della struttura mentale americana fin dal 600. Quindi anche lì pesca su un immaginario di lunghissima durata, quello del ritorno a casa, che è fondamentalmente simboleggiato dal baseball, l'uscita, l'attacco e il ritorno a casa. Mentre invece il football americano sarebbe lo sport della frontiera, infatti non c'è il ritorno a casa. Ma qui andiamo su cose specifiche dell'immaginario. Qui si tratterebbe semplicemente di capire quanto questo gli è permesso dalla geopolitica e dalla globalizzazione. Cioè può mantenere le promesse di riportare tutto ciò che l'America ha esternalizzato dentro casa? Tanto le truppe? Le sta riportando a casa le truppe? Al momento non sembra. Anzi vorrebbe dichiarare guerra direttamente a mezzo mondo, almeno a parole. Gli investimenti che potere ha di riportarli dentro sono con il ricatto o col protezionismo. Quanto è possibile oggi in un'economia come quella attuale il fortissimo protezionista? È vero, ha ricattato la Ford e pare che la Ford abbia ceduto sulla costruzione delle fabbriche in Messico e quindi, pare, questo poi lo voglio vedere se effettivamente riesce, e quindi riuscirebbe a riportare alcune fabbriche, alcuni strumenti di produzione all'interno dell'America rispettando in questo caso sia il suo programma elettorale sia la sua, chiamavano così, struttura culturale puritana. Probabilmente è presto e bisogna capire perché. Effettivamente se riuscisse a mantenere queste promesse, beh insomma io, ovviamente mi tocco da tutte le parti, ma spero che non venga letto tra quattro anni, però è ovvio che, insomma, c'è effettivamente un rischio. Chiudo su una cosa, che è la questione dell'esercito, che sembrerebbe l'altra contraddizione. Voglio riportare le truppe a casa, questo l'ha detto durante tutta la campagna elettorale, però voglio aumentare gli investimenti nell'esercito. Ecco, come interpretiamo quest'altra contraddizione all'interno, noi siamo studiore di immaginario, quindi all'interno della cultura americana, sembrerebbe un'altra contraddizione potentissima, a meno che, ecco, anche lì, cosa intende per aumentare gli investimenti dell'esercito? Puritanamente come strumento di difesa dei confini? Già, ma geopoliticamente quali sono oggi i confini dell'America? Il Pacifico, abbandoniamo l'Europa, come sembrerebbe avere, no? Suggerito almeno all'inizio. L'Europa si difende da sola, il nostro giardino di casa, la nostra nuova dottrina Monroe è il Pacifico e quindi il nemico effettivamente è la Cina, come l'ha detto anche lì 3.000 volte in campagna elettorale, e la Corea. Cioè, finché Trump non ci farà capire che cosa è per lui lo spazio di interesse americano, noi non riusciremo a unire i puntini, cioè, l'investimento sull'esercito e che cosa vuol dire questa ritirata ripetizione del riportiamo l'America a casa. Sì, per rifarmi anche a quanto detto precedentemente, prima stavamo parlando del perché Trump ha potuto effettivamente rappresentare un'universalità tale, agli occhi della cittadinanza statunitense, da poter essere identificato da ciascuna parte di questa cittadinanza come un elemento nel quale si riflettevano tutti gli interessi, le rivendicazioni, le aspettative e le speranze individuali. Appunto un'universalità che però, come si stava dicendo, in realtà, in concreto, mostrava come Trump stesso dividesse a mucchi la società sulla base del canone dell'uomo bianco e autoctono, ovviamente. Quello che, secondo me, emerge proprio da un punto di vista pratico e fattuale nei primi mesi di formazione del governo Trump è la cifra di quanto la sua universalità effettivamente sia sempre stata parziale, di quanto effettivamente qualsiasi discorso in generale lo abbia fatto fosse segnato da un'interna contraddizione o comunque da un'interna esclusione nei confronti di alcuni soggetti. lui, in tantissimi dei suoi discorsi in campagna elettorale oppure di, diciamo, conferenze, stampa immediatamente successiva alle sue vittorie, che fossero le primarie e dei repubblicani oppure la vittoria, diciamo, elettorale o il discorso di insediamento, ha sempre detto io sono stato eletto da quelli che sono stati left behind da quelli che sono stati lasciati indietro io sono stato eletto da quelli che sono stati maledetti per decenni io sono stato eletto dai disperati ecco, questo non sembrerebbe essere completamente vero se andiamo a vedere chi ha sostenuto a livello organizzativo la campagna di Trump e le persone di cui lui si è circondato appunto per formare il suo esecutivo la sua amministrazione facciamo alcuni esempi abbiamo da una parte il segretario di Stato che è Rex Tillerson uno che è stato per tantissimi anni all'interno del Consiglio di Amministrazione della ExxonMobil che è uno dei grandi colossi, per esempio dell'industria energetica e dell'estrazione di idrocarburi di conseguenza capiamo bene anche come mai Trump abbia avuto certo con qualche incrinatura e con qualche frattura che vanno avanti tuttora però perché Trump abbia avuto tutta questa fascinazione nei confronti di Putin uno dell'ExxonMobil una volta che le sanzioni nei confronti della Russia possano essere tolte può effettivamente portare a una grande multinazionale un bacino di risorse energetiche non indifferente per esempio nel Mar Nero o nei mari che confinano con la Russia e già qui vediamo che Trump si contraddice con la sua ipotesi di purezza di verginità nei confronti delle lobby non è assolutamente vero visto che appunto si è diciamo messo in casa uno che ne è stato il massimo rappresentante e questo si vede certamente anche con la questione degli indigeni del Nord Dakota e si vede anche con tutti gli ordini esecutivi che ha fatto anche questo è un altro strumento che vorrebbe riflettere l'onnipotenza del presidente da un certo punto di vista anche se ovviamente ha una portata limitata e lui ha fatto tantissimi ordini esecutivi per mettere sotto la categoria di interesse nazionale tantissime grandi opere sparse per gli Stati Uniti ovviamente senza alcun rispetto dei diritti ambientali e sociali delle popolazioni che vivono quei territori che non riconosce assolutamente un altro esempio lo possiamo fare con Machning che è il nuovo ministro dell'economia è un uomo che ha lavorato per 17 anni per la Goldman Sachs che nel 2009 è stata condannata per azioni speculative in finanza e nei mercati finanziari ed è l'uomo che ha proposto a Trump per esempio di abolire il Dodd-Frank Act che è uno di quegli atti fatti da Obama che seppur in maniera timida però iniziava a limitare le manovre speculative sui fondi pensionistici quindi salvaguardando tantissimi risparmiatori il Trump che appunto puntava il dito contro Wall Street dicendo Hillary Clinton è una figlia di Wall Street dicendo che l'elite globalista a causa della globalizzazione a causa del superamento delle frontiere a causa del mercato pazzo hanno portato in ginocchio la cittadinanza statunitense bene lui non ha fatto altro che imparentarsi con uno che è il prodotto di questo stesso ambiente culturale politico che lui identificava come suo nemico ma possiamo andare avanti identificando nel nel suo massimo responsabile della campagna elettorale un vecchio caporedattore di Breitbart che è una delle riviste più conservatrici e più retrograde degli Stati Uniti dalla quale è nato il nuovo movimento dell'alt right cioè della destra alternativa dentro la quale convergono delle pulsioni e delle tendenze politiche che veramente fanno parte di quel passato a cui lui allude quando dice make America great again appunto alludendo a questo passato di ricchezza perché si parla di suprematisti bianchi si parla di sessisti si parla di omofobi si parla di persone che appunto vorrebbero eliminare fisicamente i musulmani perché identificati in quanto diciamo religione con il terrorismo allora questo personaggio che tra l'altro continua ad essere uno dei più importanti consiglieri della Casa Bianca insieme a sua figlia e al suo diciamo al suo al suo genero ecco tutti tutti questi personaggi fanno parte dell'entourage di cui Trump si è circondato di conseguenza l'universalità a cui lui si richiamava che è stata un'universalità che tante volte ha strizzato l'occhio a le minoranze di genere le minoranze di razza perché in un qualche modo le voleva ricomprendere all'interno del suo discorso molto importante è la dichiarazione che ha fatto dopo la strage di Orlando dicendo che l'America rimarrà sempre la terra delle libertà individuali per tutti contro invece diciamo i barbari del Medio Oriente oppure dei paesi orientali la difesa delle donne che ha sempre sostenuto dicendo che lui è per l'uguaglianza di genere l'importante è il merito sul lavoro quando poi allo stesso tempo ha parlato dell'aborto come cultura di morte e uno dei suoi primi ordini esecutivi è stato infatti il definanziamento delle cliniche pubbliche che appunto promuovevano le pratiche dell'aborto per rispettare i diritti riproduttivi e la libertà sessuale delle donne ecco tutte diciamo tutte queste queste captazio benevolenzia che ha cercato di fare in realtà sono state proprio un artificio retorico c'è una contraddizione molto netta e questo lo si può assolutamente vedere secondo me è importante riconoscerle per poi capire quando si ridanno all'interno delle nostre città all'interno dell'Europa dei tentativi dei tentativi simili che giocano con altre connotazioni locali ma che si danno in ogni caso grazie